ciao a tutti amici di riviera 24 oggi mi trovo qui in compagnia con luca favero siamo a coso da roscia e siamo qui per parlare di una tematica molto sentita nei dibattiti in questo periodo che però è opportuno come dire a volte trattare in maniera meno ideologica e più concreta parliamo ovviamente del lupo il lupo che è un animale sicuramente molto affascinante ma che è anche un animale che può dare numerosi problemi a tante attività economiche nello specifico luca ha avuto convive con il problema dei lupi e non solo li vede girare intorno al suo allevamento perché lui è un allevatore ma il suo bestiame ha anche ricevuto degli attacchi quest'anno giusto luca sì ho avuto una predazione quest'autunno eravamo più o meno fino ottobre una manza di circa due anni è stata attaccata da un branco penso perché l'hanno dilaniata ecco ecco questa è una cosa che ad esempio spesso non ci si pensa quanto costa una manza perché noi alcuni dicono vabbè ma cosa cosa importa un animale quanto costa una mucca di quelle dimensioni saremmo stati sui 2000 euro 1800 più o meno quindi un danno economico anche molto importante insomma si si è stato un danno abbastanza importante dai ecco una delle cose che che molti dicono magari quelli che sono più come dire contrari a quelle che sono le politiche più interventiste nei confronti del problema del lupo è di utilizzare magari dei cani che possano fare da guardia o addirittura delle recinzioni ma qual è il problema legato a queste queste possibili soluzioni perché ogni soluzione non ha una non è sempre perfetta giusto certo le recinzioni il problema è che principalmente che il lupo nel filo elettrico passa lo stesso quindi anche due tre file lui se vuole entrare entra perché ovviamente il lupo non è una mucca quindi c'è dove nei buchi si infila molto velocemente il cane maremano va bene però secondo in che posti vai va bene ma in certi posti dove molto turistici diventa un po problema per la gente anche perché appunto il cane maremano fa il suo mestiere quindi è vero che protegge magari dai lupi ma è anche vero che poi se c'è una mandra di mucca che passa nei turisti è anche aggressivo nei confronti dei turisti il maremano cosa fa il maremano nel recinto è come casa sua quindi è forte lì vicino al recinto è forte quindi se il lupo ha un po paura difficilmente attacca il bestiame però certi posti non puoi mettere recinti quindi lasci i maremano nel greggio piuttosto nella mandria e se passa magari qualcuno che è un po più curioso che fa una foto che rischi di rischia ovviamente di avere dei problemi col cane ecco ci sono stati anche dei casi di attacchi o confronti dei cani da pastore quest'anno no non ne ho avuto l'anno scorso sì dove vado in montagna hanno attaccato un pastore maremano sì infatti appunto anche questo è un ulteriore problema ovvero che ovviamente i lupi magari attaccano principalmente le mucche o magari delle pecore però se hanno fame anche i cani va bene nel senso sì quello lì è stato un attacco perché il cane aveva difeso una pecora erano due maremani un lupo e però non so dire perché non ero lì però il lupo il cane ha avuto la peggio ecco ecco tra l'altro con quale frequenza si verificano questi attacchi la frequenza adesso è diventata molta è alta la frequenza perché spesso gli anni scorsi meno ma comunque sia erano presenti erano comunque presenti nella zona ecco invece tu quindi sei un elevatore sia di mucche che di pecore giusto no pecore io solo mucche e d'estate vado con un altro pastore che ha delle pecore quanto costa più o meno una pecora sul mercato ma le pecore da 0 a 250 euro ok però anche quello insomma è un danno se mi è ammazzata una pecora non indifferente ecco secondo te quali potrebbero essere le soluzioni che si potrebbero implementare per cercare di gestire questo problema del lupo non so cosa dire cosa pensare perché il lupo è un animale che serve di sicuro è affascinante va rispettato però noi allevatori non so dire cosa diciamo che è bello vedere in televisione conviverci è un po meno divertente ecco sono belli da vedere però conviverci è diventato un problema veramente grosso per noi ecco il problema dei cinghiali invece nelle vostre zone c'è oppure no no i cinghiali non si può dire che io non quest'anno poi non ho proprio trovato presenza di cinghiali negli alpeghi dove vado non appena qualche qualche raspata così ma non stanno più bassi sì secondo me sì adesso sì ecco bene allora innanzitutto io ti ringrazio per aver concesso questa intervista amici appunto questa è una chiacchierata per parlare di questo problema e secondo me appunto è opportuno anche sentire quello che sono appunto il vissuto degli allevatori perché sono quelli che poi alla fine della fiera hanno l'onere di convivere in questa situazione perché da chi vive in città può dare tante opinioni ma poi alla fine non come dire non non ci tocca il problema il problema tocca chi invece deve vivere in questo in questo ambiente luca grazie mille e in bocca al lupo c'è qualche appello che vorresti fare alle istituzioni ma appelli io loro a livello nazionale e regionale parlano di giovani di aiutare l'allevamento come però stanno facendo veramente poco per noi certo e questo è anche un problema perché tutti noi amiamo il prodotto chilometro zero le cose che locali però se poi non si dà una mano a chi alleva è complicato grazie mille luca